Oggi ci troviamo davanti ad un brano in cui il Signore ha questo dubbio episodio. Il primo episodio è quello di relazione, di discussione con i farisei riguardo il divorzio e il secondo episodio è quello relativo all'allontanamento da parte dei discepoli, dei bambini che volevano stare con Gesù e Gesù che gli dice no, lasciate che vengano a me. Ma vorrei focalizzarmi principalmente sulla prima parte. La prima parte narra di una finalità, di una finalità che corrisponde ad una grande bellezza del disegno, di creazione originale. L'origine è che il divorzio, la separazione non siano previsti. La realtà che molto spesso noi viviamo qui nella società che probabilmente tu stessa hai vissuto, che hai vissuto con grande dolore, non corrisponde al disegno originario di comunione e di unione, che è di una bellezza che va ben oltre. Gli hai incontrato un anziano e un'anziana mano nella mano. Che tipo di reazione ha provocato dentro di te? Pensa, questo divorzio, questa separazione possono provocare in te grande tristezza, una tristezza che è anche lecita, e possono farti dire io non troverò mai una persona che mi sarà a fianco. Questo non è quello che ci dice il Signore. Il Signore ci ha creati per che qualcuno stia a fianco a noi. Il Signore ha visto la nostra solitudine, ha visto la tua solitudine, e vuole che tu sia accompagnato da qualcuno o da qualcuna. La donna che è tratta dalla costola di Adamo ha pari degnità e riempie quella solitudine originale che l'uomo avverte perché non trova qualcuno che è suo pari. Allora ricordati di questo. La creazione è fatta per la bellezza. La bellezza di una comunione tra uomo e donna, la cui comunione è tale per cui genera una vita che è diversa addirittura dai due, una terza vita. Allora guarda questo disegno, guarda come il cuore in realtà è ciò che porta a questa divisione, e come tu sei fatto per la comunione, per l'unione, perché il Signore ha previsto per te cose belle, non separazione, ma comunione.